Buongiorno a tutti, mi chiamo Simone Aliprandi, sono un avvocato, un divulgatore, mi occupo di diritto della proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e oggi sono dietro la telecamera, non mi vedrete in viso, vedrete solamente le mie mani muoversi e alcuni oggetti qua davanti che mi servono per spiegarvi alcuni concetti legati al mondo della blockchain che adesso è, come dire, diventato quasi un must, non se ne può fare a meno, tutti devono parlare di blockchain e oggi cercherò di spiegarvi come la blockchain può essere un must. può diventare utile per il mondo della creatività e quindi di coloro che di lavoro vogliono fare i creativi e vogliono gestire correttamente la loro proprietà intellettuale, il loro diritto d'autore, lo copyright, chiamiamolo un po' come volete, l'importante è capirsi e vedremo che appunto la blockchain è un'infrastruttura che può fare anche questo mestiere, può fare anche il lavoro di fissare nel tempo un file, cioè dargli una collocazione temporale specifica e questo ovviamente agli autori, a chi di lavoro, ma anche a chi non lo vuole fare di lavoro necessariamente, a chi crea in generale, può essere molto utile, no? Perché? Perché per stabilire la titolarità dei diritti normalmente si utilizza l'anteriorità temporale, quindi se io riesco a stabilire che questo file era stato creato da me in una data specifica, tendenzialmente sarò il titolare dei diritti e potrò opporre questa prova a tutti coloro che si professano autori di quell'opera anche in una data successiva. Ok? Questa cosa in realtà si poteva fare prima, nel senso che ci sono già tanti altri modi per collocare nel tempo un file digitale in modo abbastanza univoco, pensate a tutte le forme di firma digitale, di marcatura temporale, di metadattazione di un file fatto con un sistema criptografico che appunto include all'interno del file dei metadati univoci univoci che stabiliscono che quel file esiste in una data specifica. Ok? Ecco, questa cosa prima si poteva fare in vari modi, adesso si può fare anche con la blockchain. In quell'immagine che vedete qua davanti, queste graffette incatenate una con l'altra, voglio una po' per rappresentare la blockchain. In che senso blockchain? Questa è una catena di blocchi, no? Sappiamo che in questo mondo digitale il blocco, questo blocco, l'1, viene prima del blocco 2, il blocco 2 viene prima del blocco 3, e via dicendo, e quindi noi se leghiamo a questi anelli un file, riusciamo a individuarlo anche temporalmente, dire ok, esisteva in quella data specifica, caricandolo sulla blockchain. Quindi ipotizziamo che noi siamo, di essere appunto un autore, un fotografo, uno scrittore, quello che volete, no? Beh, ipotizziamo appunto uno scrittore, un noto poeta, che scrive nel mezzo del cammin di nostra vita, no? E quindi questa è la mia opera, ovviamente forse dovrebbe essere un po' più lunga per essere considerata opera dell'ingegno, essere di carattere creativo, cosa faccio? La carico sulla blockchain, prendo il mio anellino, come dire, potremmo anche farle un buchino, comunque legarla, e la infilo, l'aggiungo come nuovo anello della catena, ok? Quindi questo nuovo anello va a finire qua. E quindi, come sapete, tutti gli anelli che verranno successivamente, se io attacco un anello in più, un altro anello ancora, saranno appunto successivi e quindi l'autore di Nel mezzo del cammin di nostra vita potrà dimostrare che quest'opera esisteva prima, indubbiamente prima di tutto ciò che è venuto dopo. Ok? Quindi questo è uno degli utilizzi della blockchain. Indubbiamente non proprio il più economico e sostenibile come sistema, perché come vi dicevo prima, questo si poteva fare anche in altri modi. La blockchain è, come dire, molto dispendiosa dal punto di vista di risorse proprio tecnologiche e quindi anche con un impatto ambientale molto alto. Questo è un problema di cui molti esperti di sostenibilità parlano e che hanno segnalato, però ecco, questa è una delle funzioni della blockchain. In un prossimo video vi faccio vedere come questo concetto che abbiamo espresso, appunto di caricare sulla blockchain un'opera, può diventare utile anche nell'ambito dei cosiddetti NFT, non fungible tokens. Grazie a tutti. Grazie a tutti.